Io mi chiamo Bruno, lavoro all'ufficio orientamento di Nava, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e siamo qui stasera con, come anticipato, il course leader del biennial specialistico in product design, Dante Donegani, qui alla mia destra, e un ex studente del corso, Tenshu She, attualmente impiegato presso il Global Consumer Design Center di Whirlpool, in modo tale da potervi presentare il corso nella sua interezza, sia dalla parte intracurriculare, accademica, e anche poi delle prospettive post laurea nel mondo del lavoro. Lascio subito la parola al direttore del corso, Dante Donegani, poi successivamente per tutta la parte relativa a domande e risposte, non solo relativamente al corso, ma anche ad altre domande, come procedure, borse di studio, immatricolazione al corso, ci vediamo con me a fine presentazione. Prego direttore. Grazie mille, grazie mille della presentazione. Sono contento che è qui con me Stefano, io chiamo Stefano, è un nome più complicato in cinese, che ho conosciuto come studente qui al biennial di product design. Poi, finito il master, Stefano ha cominciato a lavorare con me in ufficio, in studio, e poi vi racconterà meglio come è andata poi a finire. Ma sono molto contento perché Stefano conosce sia la parte didattica, sia la parte anche, non solo come studente, ma è stato mio assistente per diversi anni, poi ha fatto anche professore per breve tempo, per un anno circa, e poi è passato a miglior vita, diciamo. Non lo so se è migliore o peggiore, ma va bene. In un posto molto prestigioso, comunque. E allora, voi sapete, insomma, tutte le università di prodotto, insomma, sono molto simili tra loro. I programmi sono abbastanza gli stessi, per cui immagino che anche per voi è abbastanza difficile orientarsi, no, per scegliere, che non so, il Politecnico, la Naba, l'Indoven, la San Martin, il Royal College, tutte le innumerevoli scuole di design del prodotto che ci sono sparse per il mondo. Sono tutte buone, non lo so tutte, ma insomma, gran parte sono assolutamente buone scuole, buoni master, e hanno tutti dei programmi molto simili. Voi leggerete le materie, cosa sono? Storia del design, design di prodotto, materiali, tecnologie, brand design, design management, interaction design, design dei servizi, eccetera, eccetera. Allora, tutti, più o meno, tutte le università hanno dei corsi molto, diciamo, almeno come titoli, insomma, molto simili. Ma, devo dire, anche come contenuti, insomma, tutte le università, insomma, la storia del design è quella che è. Certo, qui siamo in Italia e chiaramente, come voi sapete, l'Italia in particolare, siamo anche a Milano, e Milano è uno dei cuori pulsanti del design e della cultura del progetto in generale. E non da pochi anni, è incredibile come l'Italia e come in particolare Milano, una volta, diciamo, raggiunto questo successo, questa presenza, questa presenza forte della cultura del progetto internazionale, e parlo ormai da 20, 30, 40 anni, cioè da quando abbiamo avuto, da quando la cultura del design italiano si è imposta, si è ufficializzata, per cui parlo degli anni 60, 70, prima 60 con il good design, i grandi maestri, eccetera, e poi dopo, negli anni 70, 80, con una nuova generazione di grandi designer, ma direi anche grandi, più che designer, sono stati anche i grandi intellettuali del design che hanno, come dire, hanno stabilizzato, hanno fatto capire al mondo quali sono i nostri, le nostre modalità di progetto, come facciamo a progettare le nostre strategie, le nostre ispirazioni, e di cui poi parleremo, insomma. Io credo che ci sia una caratteristica molto italiana, ma addirittura molto milanese, che è molto importante, proprio un approccio al progetto che è molto particolare, è molto invidiata, ma molte nazioni, gli stessi cinesi, cercano di capire, sono bravissimi, sono dei progettisti che hanno dei background pazzeschi, magari anche molto più interessanti e più profonditi, anche in termini tecnici, dei nostri, italiani, però, ecco, ricordo anche Stefano, era appassionato, cercando di capire quali sono i nostri processi mentali. Qualcuno dice che vengono da Leonardo, dal Rinascimento, tutte cose del genere, che insomma io ci credo poco, può esserci che ci sia un DNA, non lo so, rinascimentale, però secondo me questo è stato un po' determinato da grandi personaggi che avevamo avuto negli anni 50, 60, dal dopoguerra fino agli anni 70, e parlo dei grandi guru del design, da Castiglione, Mangianotti, Magistretti, Ettore Sozza, Marco Zanuso, che altro, tantissimi altri, tutti i grandi designer che hanno collaborato con le grandi aziende che hanno fatto il design italiano, la Olivetti, magari molti di voi, non so quanti anni avete, ma magari non l'avete quasi mai sentita, ai miei tempi, quando io mi sono approcciato al design, Olivetti, per me era come dire, per voi, non so, Nike, Apple, era una delle grandi aziende dove un architetto giovane come me, nel secolo scorso, voleva entrare. Io ho fatto architettura perché ai miei tempi le scuole di design non esistevano. Esisteva il grande successo del design in Italia e nel mondo, però non c'era una scuola di design incredibile. Cioè tutti i nostri designer, parlo di Achille Castiglioni, Ettore Sozza, tutti i magistretti, e tutti questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del design, erano architetti, e molti di loro avevano fatto direttura al liceo classico. Io ricordo quando ero direttore di Domus, ho invitato uno degli ultimi anni, Dico Magistretti, a fare una lezione, parlava poco, era già molto vecchio, eccetera, per cui tutta la notte, mi ricordo, mi sono studiato a Dico Magistretti per poi fargli fare questa lezione a domande. A un certo punto li domando, ma qual è stata la cosa più importante per te nella tua carriera d'architetto, ma nella tua carriera anche scolastica, formativa, perché stavo facendo una lezione, e mi ha detto il liceo classico. Lì ho imparato tutto, ho imparato. Per cui questo mi fa capire come già da questa risposta di Dico sicuramente c'è un profondo concetto, cioè la cultura del design è sicuramente una cultura umanistica, non è solo tecnica. La tecnica assolutamente è importantissima, è una cosa che si acquisisce, ma credo che l'aspetto fondamentale, e a me ha fatto veramente impressione quando Magistretti ha detto ma guarda, la cosa più importante che io ho fatto nella mia vita è stato il liceo classico, poi non mi ricordo il che liceo di Milano, perché mi ha detto anche il liceo, la sezione, ecco per me è stata la più grande esperienza. Io ho capito che, lo sapevo già però, la cultura del design italiano è una grande cultura prettamente umanistica, che sì, si impara, si impara se si ha interesse per la storia, si impara se si ha interesse per il significato delle cose che accadono, anche il nostro interesse ad esempio per gli oggetti, noi siamo appassionati di oggetti, quando vediamo un oggetto noi vediamo che uno porta un orologio, così capiamo, già capiamo che tipo è, cioè leggiamo le persone, le cose, attraverso gli oggetti che possiede, no? Che sia una deformazione professionale, probabilmente come un dottore ti guarda gli occhi e dice, vabbè, tu magari ti manca un po' di ferro, ecco noi leggiamo praticamente le persone, gli spazi, no? Proprio attraverso gli oggetti che lo circondano, un po' come un fashion designer naturalmente, no? Ha talmente dimestichezza con i vestiti, con lo stile, con le cose, che riesce già a farsi una prima idea proprio perché tutte queste cose, dai vestiti, dagli oggetti che abbiamo intorno, dagli oggetti che usiamo, dagli oggetti che portiamo con noi, chiaramente non sono solo bellezza, ma sono cose che comunicano, ecco. Questa è un'altra parola molto importante, che è stata importante negli anni, verso la fine del secolo scorso, negli anni 90, ma anche all'inizio di questo secolo, dove a un certo punto il design diventa molto comunicazione, cioè l'aspetto comunicativo dei prodotti diventa veramente, veramente importante. Adesso io sto dando un po' a ruota libera, stavamo parlando di Olivetti che nessuno, probabilmente pochi conoscono, io ho lavorato tanto anche in Olivetti subito dopo il mio master, dopo l'architettura, poi sono venuto a Milano, ho affascinato dal mondo del design in quegli anni perché l'architettura era un po' in stand-by, l'architettura moderna non riusciva ad uscire da un discorso molto razionalista, molto moderno. Quando parlo di moderno parlo della modernità, la modernità qualcuno dice che è nata con la rivoluzione industriale e è finita, diciamo, negli anni 70 circa. E poi inizia, diciamo, la chiamata post-modernità e poi, vabbè, non lo so. Per cui quando parlo di modernità parlo di quel grande periodo che nasce essenzialmente con le prime grandi scuole di prodotti, diciamo di progetto, che sono, che conosciamo tutti, la prima grande scuola che affronta il prodotto industriale è la Nova Wals, degli anni venti, una scuola fondata da Gropius e da altri professionisti dove si rendevano conto. Sto andando un po' troppo, sono un po' largo per descrivere, ma non importa, io vado così perché sono tutte cose che centrano molto con il nostro bienio. Dicevo, il design già 100 anni, non tanti di più. Per cui la storia del design non è che parte dagli egizi. De Fusco dice che il primo prodotto industriale è l'invenzione di Gutenberg della stampa, ma così è un po' paradossale, però diciamo la storia del design inizia praticamente poco prima della Bauhaus. La Bauhaus è una grande scuola che si rende conto che deve fondare le estetiche, i linguaggi, le modalità, i processi intorno al prodotto industriale. La storia è cortissima, la storia proprio del prodotto industriale. La Bauhaus cosa dice? Noi dobbiamo rimescolare le carte, dobbiamo chiamare artisti, dobbiamo chiamare architetti, dobbiamo chiamare designer, artigiani, scultori, ballerini, danza. Mescoliamo tutte le arti per capire e per contaminare proprio questa disciplina. Il prodotto industriale era una cosa totalmente nuovo. Prima i prodotti si facevano a mano, si facevano in maniera artigianale. Con la rivoluzione industriale si cominciano a produrre con le macchine fatti in serie. Però il linguaggio all'inizio non era cambiato. Si continuava ad usare delle modalità del prodotto artigianale, per cui il decoro, per cui certi linguaggi preindustriali e che venivano applicati anche ai processi industriali. Questo comportava un disastro, perché è impossibile all'inizio dell'attività industriale, con le prime macchine, eccetera, di produzione di serie. No, riuscire a usare quegli stessi linguaggi estetici era costoso, era superfluo. Per cui le prime teorie, vi ricordate Ornamento e delitto di Adolfio Ross, poi Less is more di qualcun altro. Ci sono state tutta una serie di dibattiti, di dichiarazioni, di battaglie, battaglie tra intellettuali che dicevano, ma no, ma come prodotto industriale è terribile, no? Azzerra tutti i linguaggi, le estetiche, la ricchezza del prodotto artigianale, l'unicità del prodotto artigianale. E invece poi, insomma, questa cosa è andata avanti. Poi, come sapete, c'erano state le guerre, ci sono stati degli eventi anche disastrosi, molti intellettuali sono scappati, sono andati negli Stati Uniti, per l'Inghilterra, eccetera, per cui tutta questa cultura che la Bauhaus, la Repubblica di Weimar, aveva portato avanti, c'era una specie di interruzione proprio determinata dalle guerre, eccetera. Ma tutto il discorso viene ripreso poi dopo la Seconda Guerra Mondiale con altre tante grandi scuole, per esempio la scuola di Ulm, che ripete un po' i percorsi della Bauhaus in maniera molto più applicata al prodotto e anche molto vicino all'industria, Google, Notte e compagni a bella. Poi, vabbè, forse conoscerete Dieter Rams, che non era proprio la scuola di Ulm, era un grande rappresentante poi di tutto quel pensiero. La scuola di Ulm inventa i nostri oggetti tecnologici neri, no? Il linguaggio della tecnologia è nero. Queste sono delle invenzioni che abbiamo inventato noi, no? Cioè, proprio per dire, l'oggetto tecnologico, l'high tech, deve essere nero. Ma questo fanno le grandi scuole, le grandi scuole di pensiero, inventano il futuro delle cose, no? Ulm? Ulm ha inventate tantissime, no? E poi, avanti, poi c'è stato il design americano, poi c'è stato il design tutto del nord Europa, importantissimo, no? Le grandi culture del nord Europa, tedesco, ma anche svedese, eccetera. E poi il design italiano. E dagli anni 70-80, almeno in certi settori, il design italiano è riuscito a tenere, come dire, sempre, sempre botta, come si dice, no? Sempre in prima linea, no? E probabilmente, se devo dire, è uno dei grandi settori dove il design italiano è stato veramente innovativo e è ancora attualmente innovativo, fa una settimana c'è il salone del mobile, che è il salone della casa, praticamente, no? Ecco, lì abbiamo sviluppato una cultura pazzesca, no? Dentro al domestico, perché fra il resto sono delle cose che non è che poi rendano così tanto, non vendono come i cellulari, migliaia, migliaia di... Ma una sedia vende un cento pezzi, perché non è nemmeno una questione di grandi fatturati, di grandi... È una questione proprio di... Chi lo sa? Di passioni, di esercizio, perché molti dei designer, dei grandi designer, si sono cimentati, cito ancora Valcistretti, quando avevamo fatto la domanda, ma come... Tu sei un grande architetto, e come mai ti sei messo a progettare stupide sedie? Ma dice, nel dopoguerra io facevo gli edifici, e gli appartamenti, e gli uffici, ma non c'erano prodotti per entrare in queste nuove case. Allora ho dovuto progettarmeli io. Allora chiamavo il faregname, e mi dico, quale faregname? Beh, Cassina era un faregname, Cassina, no? Cioè, la grande Cassina, lui l'ha conosciuto che era un faregname, e dice, ho appena fatto il golf club di... Prianza, un ristorante, mancavano delle sedie adatte, insomma, allora gli ho disegnato una sedia, insomma, quella è diventata una sedia, una delle prime sedie, delle grande Cassina, e sapete, insomma, Cassina, che azienda, eccetera. Per cui, anche questa cultura del design italiano, nasce proprio sul campo, nasce, nel dopoguerra, nasce da gente molto esperta, da architetti, e praticamente lavorano con i prodotti, cimentandosi con l'architettura. Cioè, non sono delle cose astratte, sono delle cose estremamente concrete, no? Erano delle cose estremamente concrete, che non esistevano, no? Questi prodotti che dovevano adattarsi alle nuove case, ai nuovi uffici, no? Nel dopoguerra, quando tutto era da ricostruire, e da rifare, praticamente. Va beh, la nostra, la nostra facoltà, ho cominciato a dire che tutti i bienni sono abbastanza simili, parlano di queste cose, no? Per fare un prodotto, sappiamo bene che la storia è fondamentale. Se non conosciamo la storia è un disastro, va bene, possiamo essere dei geni dotati, riuscire a dare, ma la storia è una cosa, no? Questi tre, questi dieci minuti, dove vi ho fatto un excursus, no? Dall'Art and Craft, alla Bauhaus, a Ulm, agli anni 50, 60, 70, ecco, queste cose bisogna masticarle, bisogna conoscere tutto, perché altrimenti è difficile fare qualcosa di nuovo. È impressionante. È comunque difficile, perché appena ci viene un'idea, andiamo a controllare in internet, oggi, una volta ai miei tempi non era così facile, ma smanettiamo un attimo e la troviamo bella e fatta, no? E questo è anche molto scoraggiante, no? Per dei progettisti che dicono, ma Cristo ci ho messo tre giorni a pensare a questa cosa e qua me la ritrovo bella e fatta da qualche, boh, no? Progettista in giro per il mondo, magari il prototipo, magari, no, non vuol dire niente, non vuol dire niente, perché non è tanto il prodotto in sé, ma è cosa c'è dietro al prodotto, che cosa significa, un significato estetico, profondo, come si legge. Sono cose abbastanza difficili da capire, ma quello che ci interessa, è anche nel nostro biennio, è proprio più che i prodotti. Ci interessa cosa i prodotti significano, come i prodotti ci parlano, come ci comunicano, e ci comunicano attraverso la loro bellezza, attraverso la loro profondità, attraverso la loro intelligenza, attraverso il senso profondo, che hanno di esistere, no? Ma anche quanto rimangono sul mercato. Noi vediamo dei prodotti di Achille Castiglioni, di Ettore Sonserty, che hanno 30, 40 anni, no? E sono ancora nelle nostre case, sono delle cose che non si vorrebbero mai lasciare, no? Come una sedia della nostra nonna, no? Proprio perché sono dei pezzi che sono borderline, con l'arte, sono dei pezzi quasi d'arte, solo che sono dei pezzi che si possono permettere tutti, a differenza di un Van Gogh o di un'opera d'arte. Ecco, questa è la componente molto artistica dei prodotti, e cosa vuol dire poi artistica? Perché poi qualcuno dice, no, questo prodotto, questo progetto è troppo artistico, ha una connotazione troppo artistica, come se fosse un difetto. No? Beh, cioè, l'arte è una delle poche cose che ci rimane, no? Se voi andate indietro e dire, e pensate alla storia, cioè, veramente, le cose che prime che vengono in mente sono tutte quel mondo superfluo che appartiene al mondo dell'arte, no? Non sono le cose funzionali, non sono le cose, ma sono veramente tutte quelle cose inutili, cioè, solo per lo spirito, solo per la... Cioè, e sono le cose che al mondo poi rimangono nei secoli, nei secoli, nei secoli. Ecco, il design è anche altro, il prodotto, no? Questi sono prodotti belli, che funzionano, eccetera, però, insomma, se vedete anche, no? Un iPhone, insomma, è un prodotto che ha fatto, che ha avuto un'innovazione, no? Che ha procurato delle innovazioni incredibilissime. Allora, il biennio, devo parlare del biennio, il biennio parla di queste cose, no? insegna anche cos'è la storia, l'importanza, l'importanza della storia. Sto cercando di far andare avanti qualche progetto, ma non sono... Facciamo un progetto anche molto più bello di questi, eh? Questi sono degli... degli stupidi progetti, ma anche molto intelligenti, ma vediamo delle lampade, vediamo del... Vabbè, ci sono parecchie lampade, ma ci occupiamo, diciamo, un po' di tutto. E quello che dicevo prima, ecco, c'è un'altra cosa, che molti fanno il triennio e poi guardano le batterie del biennio e vedono che sono molto simili, e ripeto, la storia, le tecnologie, il design dell'interazione, si fanno in maniera molto diversa. È completamente diverso. Nel biennio, ecco, se dovessi dire che cos'è la differenza tra il biennio e il triennio, è che nel triennio bisogna imparare, bisogna acquisire gli strumenti, no? Bisogna cominciare a disegnare, che sia a mano, che sia con i programmi, o che sia con il digitale, eccetera, bisogna imparare quali sono i materiali, bisogna fare un po' di storia, in maniera anche un po' lozionistica, bisogna, insomma, imparare come le scuole elementari, quasi, no? Dove, prima di comporre una poesia, no? Si comincia a imparare a scrivere, prima le lettere, poi a metterle assieme, poi una sintassi, poi si comincia a leggere, a studiare diversi autori, e poi si comincia a comporre, piano piano, eccetera, ecco, il bienio è un po' come se tutti questi strumenti, in fondo, stiamo quasi per spuntato, che uno ce li ha, e che non è vero, perché anche nel bienio, poi, dobbiamo tra le righe, insegnare proprio degli strumenti, magari, più sofisticati, programmi, ma la storia, la stessa storia, è molto diversa, cioè, è chiaro, gli eventi sono gli stessi, ma tutti i collegamenti, con la storia del design, con la storia della società, con le grandi crisi, con problematiche economiche, eccetera, per cui si va a vedere molto di più, il perché, a un certo punto, negli anni 70, altaviamo fuori, beh, ci sono immobili di plastica, negli anni 70 del secolo scorso, incominciano immobili di plastica, perché? O perché, magari, a un certo punto, c'è una grande crisi del mobile di plastica, c'è la crisi del petrolio, in un determinato momento storico, cioè, diciamo che la storia del design, è molto connessa, agli eventi che ci succedono, eventi economici, eventi politici, eventi trasformazioni, di città, di culture, di socialità, eccetera. Per cui, nel bienio, pur tra le righe, dobbiamo insegnare anche delle tecnologie più sofisticate, una lettura della storia più sofisticata, vista da diversi punti di vista, materiali più evoluti, tecnologie appunto più evolute, della stampa 3D, eccetera, eccetera, insomma, cose, tutte le tecniche di stampaggio, che non se ne sa mai abbastanza, i nuovi materiali, tutto questo nuovo mondo, i materiali chiamati sostenibili, ecologici, in parte si fanno anche al trienio, tutte le questioni legate invece alla commercializzazione, no, e al mercato. Oggi, come sapete, la nostra professionalità la mettiamo a disposizione di tante situazioni, assolutamente diverse, molti di noi finiscono, università, eccetera, fanno degli apprendistati, degli stage, poi aprono il loro studio, incominciano a lavorare per aziende, eccetera, altri vanno, per esempio, in grandi aziende, come Stefano, che dopo aver lavorato, studi, fatto un po' di docenza, eccetera, è approdato a un grande multinazionale come la Wirbel. Sono mondi completamente diversi, completamente diversi dove abbiamo bisogno di modalità, ditemi quando devo interrompere, io sto andando avanti, di modalità e di cultura del design veramente, veramente diverse. Ed è per questo che nel bienio noi cerchiamo di approfondire un po' tutto. Secondo me possiamo preparare ad essere dei bravi professionisti anche in un piccolo studio, ma anche dei grandi professionisti altrettanto validi per il mondo dell'azienda. Non dico se è più difficile uno o più difficile non l'altro, sono modalità completamente diverse e questi sono proprio diciamo le dimensioni lavorative che ci possiamo trovare una volta finito il nostro master. E nel master noi dobbiamo tener conto di questo. Cioè, dobbiamo riuscire a preparare, a rendere consapevoli i nostri studenti di questi mondi completamente diversi. Questo lo si fa con le nostre materie, con le nostre discipline, ma nello stesso tempo anche collaborando con importanti aziende, importanti e meno importanti, grandi e piccole, multinazionali e piccole aziende del mobile, voi vedete qui per esempio queste immagini che vedete sono dei termosifoni plug and play, era il titolo del workshop e una prestigiosa azienda piccolissima, che però è abbastanza famosa nel mondo del design e soprattutto nel mondo dei termosifoni perché poi i termosifoni non sono degli oggetti così meravigliosi, sono degli oggetti che lascono tecnici per far scorrere dentro l'acqua o altre sostanze e riscaldare i nostri ambienti. Tubes diventa abbastanza famosa proprio perché ha incominciato a lavorare con progettisti interessanti e insomma io li ho contattati e loro sono stati felicissimi vediamo forse qua c'è ecco ce ne sono degli altri qui no felicissimi di lavorare con noi sul mondo di un questo sono degli oggetti semplicissimi di solito bruttissimi se voi andate non voglio fare un luogo ma insomma nei grandi magazzini trovate questi piccoli termosifoni per scaldarsi mettersi vicino diciamo per integrare i nostri sistemi di riscaldamento magari nelle mezze stagioni o nel bagno o nel vicino alla scrivania eccetera questi prodotti che di solito non sono sono abbastanza tecnici non sono molto curati diciamo dal punto di vista dei design e loro ci hanno proposto di lavorare su questo su questa tipologia di di oggetti cioè su dei termosifoni che tu vai a comprare a media world faccio per dire no con costo anche abbastanza contenuto arrivi a casa la tacchia la spina e ti fa no ce ne sono tantissimi tipi con tantissime tecnologie la sabbia resistenza ad acqua eccetera eccetera e si è messi a lavorare su questa cosa questo per esempio sono alcuni dei modelli elaborati dagli studenti vediamo ecco questo che è questa specie di questo se non sbaglio era un ibrido era un termosifone ma nello stesso tempo era una lampada dico bene una lampada che illuminava con questa concavità interna che metteva appunto una luce a tutto un angolo eccetera per cui aveva questa doppia secondo me molto interessante perché questi oggetti non è che sono di solito molto belli e poi insomma fanno solo caldo no se arrivando l'energia questa ragazza ha pensato che potesse con poco si potesse anche integrare tutta una una circonferenza di led con questa concavità in policarbonato non mi ricordo o palina e potesse mettere anche una sorgente luminosa una sorta di economia no di funzioni ibridando appunto un oggetto con un altro una funzione con un altro no aspetti ce ne sono degli altri qui altri questo invece sempre con la stessa azienda una specie di attacca panni questo cos'è un portasciugamani il fatto che si poteva mi pare piegare per cui anche molto compattabile anche perché questi oggetti non si usano tutto l'anno non si usano in delle mezze stagioni in periodo particolare e questi questi quattro pali erano incernierati in una maniera tre pali uno due tre sì interessante che praticamente si compattavano diventavano queste quattro barre compatte proprio per sistemarle in un armadio eccetera questo erano due fogli molto raffinati molto eleganti questo era uno strumento tailandese cos'era sì big big sì carino bravo molto elegante molto raffinato questo era una specie termosipone anche questo molto che si piegava e si compattava e si poteva continuo a sbagliare il tastino sono un po' handy questo questo è incredibile questo visto questo azione l'ha fatto molto simile non detto adesso questa era una specie di grande voi forse conoscete questo mega computer questo dell'aereo è molto simile come oggetto per cui è questo bombolone con questo uso la tecnologia ad aria mi sembra la resistenza ad aria che emette questa luce questo è un altro i video l'ho messi assieme proprio per tenere per far vedere un piccolo caso di un di un volcio che poi è durato 4 mesi ecco questo ad esempio è uno dei dei wash che in prodotto 2 faccio normalmente cioè prodotto 2 è una delle materie più importanti è il secondo anno cioè il quinto anno ma c'è scritto ma è il secondo anno del bienio cioè l'ultimo anno dove appunto incominciate anche i miei studenti cominciano per la tesi e diciamo che è l'ultimo esame importante ha 12 crediti eccetera e qui da anni cosa faccio invece di fare un prodotto così semplice come questo io di solito do due grandi temi uno un progetto spesso con un'azienda piccola molto semplice un progetto classico per ieri per domani per dopodomani insomma cioè un progetto che deve essere molto realistico per questo chiamo spesso anche un'azienda in questo tale in questo anno non mi ricordo due a tre anni fa due anni fa tre anni fa ho appunto chiamato la trubes ed è incredibile perché io ne contatto diverse aziende però ho voglia di aziende che poi hanno voglia di lavorare veramente con noi apprezzano la nostra creatività la cercano cercano tutto idee nuove eccetera no questo ecco questa è l'esperienza in product 2 la più piccola no la più normale proprio veramente good design classico quello che potrebbe fare chiunque di noi quando ci approcciamo ad un'azienda del mobile o un'azienda delle dimensioni italiane o un'azienda design oriente dimensioni italiane e questa è la prima esperienza e che facciamo in contemporane in product 2 la seconda invece diamo sempre do sempre un tema estremamente innovativo no una cosa e in quegli anni mi ricordo che lavoravamo ancora con Whirlpool dove poi Stefano è andato a lavorare e con Whirlpool affrontavamo una tematica e facevamo poi vi faccio vedere qualcosa forse qua indietro ecco per esempio questo era un prodotto di Whirlpool e anche questi dove il concetto era lo spostamento di di queste grandi multinazionalità dai prodotti che voi conoscete bene la lavatrice il forno del forno il fuochi la lavastoviglie il frigorifero eccetera che è un mondo che esiste che continuerà ad esistere però ci diventa sempre più difficile no sapete la competizione tra la Whirlpool la Samsung l'elettro adesso poi l'elettro poi adesso ci sono le cinesi la competizione su una lavatrice è è pazzesca no? cioè cambia un tastino una un po' più ecologica quell'altra consuma meno i prezzi sono sono cioè dico il design c'è non c'è insomma perché tutte queste grandi aziende pensano un domani dove vado a sbattere no? perché non posso continuare probabilmente un domani la mia competizione con questi quattro oggetti fra il resto sapete molto bene e poi magari Stefano lo spiega ancora meglio come questi oggetti hanno un processo così lento un'evoluzione lentissima dove cambiano una cosina no? perché cambiare qualcosa significa cambiare delle catene di montaggio difficili cioè ecco la relazione nostra con un'azienda del genere ve lo spiegherà Stefano è tutto un altro mondo rispetto ad una relazione con un'azienda come la Tubes alla quale loro cercano solo innovazione solo innovazione non vogliono una cosa mentre un'azienda del genere si cerca innovazione ma molto calibrata no? si uno si inventa una nuova interazione di devo lasciare quasi finito il mio tempo si no? ecco con la Tubes invece devi presentare un oggetto totalmente nuovo deve spaccare il mercato deve sorprendere deve no? spalordire per cui vi rendete conto no? degli approcci molto diversi che esistono no? nella nostra nella nostra disciplina e dobbiamo conoscerle tutti dobbiamo conoscerle tutti primo perché dobbiamo capire ognuno di voi di voi o di voi studenti deve capire cosa vuol fare da grande per cui è come se nel nostro corso deve tastare tutte queste queste cosine deve capire cosa vuol dire lavorare per un'aziendina molto design oriente da Lessi Cassina la Tubes la che ne so insomma tutti i nomi che conoscete molto bene italiani che adesso vedrete in Salone Mobile e vi consiglio di venire perché in una settimana capite tutto quel mondo e anche altri però nello stesso tempo bisogna capire se no? come Stefano mi ha detto a me interessa anche la dimensione della grande azienda perché con l'esperienza ad esempio il Product 2 era un'esperienza molto schizofrenica perché lavorare con 2 su un'aziendina a un design obiettivo in Italia e con il futuro della Whirlpool che si poneva il problema di non produrre più oggetti ma produrre servizi no? cosa vuol dire per un'azienda del genere mettersi a produrre dei servizi delle joint venture con no? per cui l'esempio che facevano della Whirlpool per dirci a cosa loro tendevano e cosa pensare per il futuro di questa azienda erano le cialde della Nestlé dice la macchinetta ormai te la regalano no? se consumi un po' di cialde te la regalano no? per cui la competizione futura sarà sulle cialde non sarà più sulla macchinetta no? per dire i pensieri ecco pensare ad un'azienda come la Whirlpool però in termini di servizio è tutto un processo questa è veramente ricerca no? se abbiamo fatto dei progetti questi erano dei fogli delle piacce dei frigorifari queste mensole a induzione per freddo caldo eccetera beh mi dicono che devo smettere non vi ho detto niente queste addirittura si producevano delle cialde in casa delle cialde di succhi eccetera eccetera vabbè niente vi ho detto poche cose ma ben confuse adesso sentiamo un attimino Stefano devo fare qualche domanda io no? ok io racconto la mia esperienza personale io non posso parlare perché prima di tutto racconto il percorso mio qua in Italia io sono qua quasi da dieci anni poi da bachelor cioè tre anni io ho già fatto qua in Italia iniziato da Politecnico di Milano poi dopo mi sono laureato io ho fatto un momento di scelta prima di tutto è di scegliere di continuare a studiare questa professione o no devo capire io devo andare avanti e poi a dove se scelgo di andare avanti come designer dove posso scegliere poi io ho scelto Naba per cioè motivo che come un'occasione che ho fatto con traduttore qua in Naba ho visto un discorso tra tante perché ci sono gli altri c'è un club come si chiama un evento e poi ci sono dei professori che hanno raccontato il concetto come un po' come oggi però con tutti questi studenti eccetera da lì ho capito cioè tutto questo percorso design italiano infatti è sempre appoggiato su una diversità dell'industria è un stato molto particolare perché io sono nato da un stato la natura di industria diciamo cinese e sempre separiamo produzione sempre parliamo di mass production che quella cultura artigianale esiste però molto collegata alla tradizione cioè non c'entra niente di fare diciamo innovazioni sempre ripetere quello che abbiamo quindi da mass production e poi sempre legato alla logica di fare di produrre invece di creare quindi lì c'è poco spazio infatti c'è stato poco spazio per lo dei designer giunta qui e poi quando io sono spostato qua in Italia ho scoperto questo campo molto interessante tipo quelle aziende piccole come Tubes eccetera c'è spazio per queste o una nicchia se si vuole dire per questo tipo di innovazione poi da lì io vedo la nostra generazione siamo molto fortunati molto fortunati in una grande onda che è la tropicalizzazione io vedo noi siamo la prima generazione di io chiamo croco native cioè siamo nati in un ambiente in un contesto che guardiamo sempre molto esterno che in sé cioè sappiamo che esiste questo mondo e poi sappiamo come si dice simultanei nello stesso tempo cosa sta succedendo in un'altra parte del mondo per cui la nostra generazione infatti c'è meno diciamo diversità differenza tra diciamo la nazionalità che la differenza tra uno italiano che ha non lo so 50 anni e uno che ha 20 anni quindi diciamo uno che ha 20 anni italiano è molto più simile che condivide più cose con uno cinese diciamo che ha 20 anni quindi è tutto questo processo e poi ha cambiato tutta la natura di industria cioè prima come una grande industria come web diciamo prendiamo come esempio infatti c'è una grande difficoltà quando bisogna dare una qualità molto stabile devi sempre appoggiare sulla logica di quantità per sempre fare moltiplicazione su quantità per guadagnare ottenere questa capacità devi creare un'infrastruttura una capacità intera di sé cioè un in-house fai tua fabbrica mille fabbriche compri altre aziende per diventare più grande però da qui perdi una flessibilità la capacità di innovare in modo continuo e poi adesso cosa è successo cioè grazie all'internet eccetera tutto questo processo e corporizzazione si riusciva a risolvere questo in due livelli una volta o fai piccola che risolvi cioè tutto fai da sé però come tubers e poi hai la massima flessibilità ma non hai il volume quindi puoi soprattutto coprire un mercato di nicchia o fai un mercato molto massa però perdi concentrazione di o di coprire tutto quanto l'esigenza di tutti oppure c'hai questa dimensione che è ancora molto nuova che è anche delle grandi aziende come ad esempio le grandi aziende cinesi adesso questo si chiama Xiaomi Apple è stata maestra ma anche Nike ormai sono tutte aziende che non producono niente cioè il valore di un'azienda una volta era data dal possedere grandi fabbriche catene in contagio no la General Motors una volta aveva quanto valeva tot milioni di milioni di anni perché perché aveva tutti questi passodimenti queste capacità produttive eccetera oggi un'azienda vale molto di più dieci volte di più anche se non ha nulla e tutta questa nuova tecnica dell'outsourcing del produrre fuori del non avere più capacità produttive oggi il design sta cambiando completamente non è il problema non è produrre il problema è il mercato dell'analizzare le nuove le nuove composizioni sociali nuovi bisogni eccetera eccetera proprio per questo anche i buoni di queste aziende si stanno muovendo in questo tipo di dimensione come diceva prima sembrano lasciamo spazio le domande allora sì infatti stiamo gli ultimi dieci minuti grazie magari adesso abbiamo avuto una panoramica anche molto culturale e filosofica sul design e lasciamo spazio quindi Lucienzi vuoi raggruppare qualche domanda poi ce le spalleggiamo nei tre innanzitutto voglio ringraziare i nostri relatori è stato molto interessante sentirvi vorrei cominciare con una domanda di Giuseppe e questo è più adatto sicuramente a te Bruno ma penso che sia che sia conveniente cominciare da queste che sono quali sono i requisiti per fare questo corso e quali sono le tempistiche per l'iscrizione allora per quanto riguarda i requisiti viene richiesta una laurea triennale o un diploma accademico di primo livello preferibilmente in un campo a fine ma comunque tutte le application verranno prese in considerazione dal course leader Dante Lonegani e se ci sarà bisogno sarà richiesta anche un incontro un colloquio di approfondimento o di persona per chi sta a Milano o anche su Skype per chi viene da fuori per quanto riguarda le tempistiche noi abbiamo due inizi per il corso di product design due intake come li chiamiamo e sono uno ordinario ottobre 2019 e uno a febbraio 2020 l'edizione che parte a febbraio è un'edizione diciamo compressa che permette anche a chi si laurea nelle sessioni di novembre dicembre gennaio o anche di febbraio di evitare di perdere l'anno quindi per iscriversi al corso che inizia a ottobre la deadline per presentare la domanda è il 19 agosto 2019 chi invece dovesse avere delle esigenze di laurea e esami che lo impegneranno fino alla fine dell'anno e volesse iscriversi a febbraio 2020 la deadline è il 20 gennaio del 2020 bene ti ringrazio e colgo questa occasione per dire ai nostri partecipanti che nei prossimi giorni riceverete una mail con tutta questa informazione contatti di riferimento di Bruno di Naba e tutte queste date importanti di application per contattare direttamente Naba Giuseppe ci chiede anche se ci sono differenze nel programma di studi tra il corso in inglese e quello in italiano no però per approfondimenti lascio il professor Donegani rispondere no non ci sono voi come sapete quasi tutti i nostri professori sono dei professionisti e vengono scelti da me e dai project leader nel tra i professionisti migliori di Milano per cui è gente innanzitutto che ne ha voglia voglia di fare ricerca con gli studenti perché è un'occasione molto molto importante per mantenersi anche anche questi grandi professionisti abbiamo Santa Chiara Trimarchi studi del mondo milanese per cui vengono qualcuno insegna sia nel bienio in inglese che nel bienio in italiano altri si differenziano ma è un evento casuale i corsi sono identici ok e parlando di professionisti professor Donegani questo è un percorso full time perché c'è un partecipante che dice che lavora quindi potrebbe studiare è molto duro lavorare però magari è bravissimo se una legge la fa è la parte vengo solo per specificare anche a un livello amministrativo che non è full time come se fosse un lavoro 8 ore al giorno però comunque sono circa 30 ore di lezione settimanale però è molto difficile appunto coniugare un lavoro full time con le lezioni perché soprattutto design essendoci anche molto laboratoriali viene molto difficile fare entrambe le cose però appunto come diceva il professore se ce la fa è possibile cioè c'è una cosa full time no è meglio che uno lavori e faccia quello insomma uno deve lavorare qualche giorno magari c'è sempre un giorno libero alla settimana che chiaramente bisogna dedicare al lavoro però insomma può essere che uno studio insomma abbia degli stimoli eccetera se uno bravo ce la può fare c'è da dire che quasi tutti i lavori si fanno in gruppo pertanto essere presenti no al momento dell'istruzione del brief del workshop organizzarsi con i propri compagni di gruppo poi uno magari non c'è durante la revisione lavora però magari può produrre comunque a casa eccetera dipende è un po' dura ma se non è un lavoro full time magari ci se la può fare bene questo è importante sapere Bruno c'è una domanda riguardo il costo del bienio una domanda di Deborah e c'è un'altra riguardo le borse del studio quindi ho aggruppato questi due argomenti da spiegare ai nostri partecipanti ok allora la retta annuale del bienio così come di tutti i bieni LABA è di 11.500 euro e per quanto riguarda le borse di studio proprio in questo periodo è aperta una competition di borse di studio basate su un progetto ognuno dei nostri bieni ha un bando con un brief diverso bisogna presentare attenendo le seriplicazioni del bando è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso entro il fino al 10 maggio quindi ancora era un mese fondante sul sito Napa nella pagina delle agevolazioni economiche per i corsi dei bieni specialistici sono elencati tutti i bandi di concorso per tutti i bieni quindi appunto vi consiglio anche di fare riferimento a questa pagina perché lì trovate tutte le informazioni sia sulle borse di studio sugli importi che variano da un 20 a un 60% di riduzione della rete annuale e poi anche tutta la parte amministrativa per partecipare al bando ok per quello che riguarda il corso di design il bando è molto interessante non occorre che non dovete avere un progetto completamente nuovo che fate appositamente nel bando c'è scritto si intitola nuove umanità se ancora io penso di sì e cosa vuol dire vorremmo vedere dei progetti che siano un po' visionari cioè che che facciano pensare a delle umanità un po' diverse da quelle che abbiamo attualmente insomma cioè prodotti che siano in grado di comunicare dei valori per il futuro dei valori positivi dei valori anche molto diversi perché il mondo come sapete è abbastanza da cambiare sapete che non è un momento bellissimo c'è una grossa quindi proprio di valori di paradigmi eccetera e il progetto ha questa bellezza questa capacità di poter immaginare dei milioni ecco se questi progetti ci fanno vedere qualcosa di questo insomma vanno bene per cui anche progetti che sono già fatti non c'è fatemi una cuffia un auspicker un tavolo no può essere una scarpa un helmet una cucitrice dicono degli oggetti che vedono per il giro qualsiasi cosa basta e che parlino di futuro ok parlando di futuro forse questa domanda sarebbe dovrebbe avere il suo proprio sulla sua propria presentazione uno dei nostri partecipanti chiedere come abbinare design e sostenibilità stavamo parlando di valori del futuro come abbinare questi due aspetti design e sostenibilità per questo che iniziamo un altro webinar io ti consiglio di andare a vedere una mostra che è Broken Nature che parla proprio di questi grandissimi temi importantissimi che sono proprio la base della cultura attuale questo si fa nel Vienio si studiano questi nuovi paradigmi di vita per cui è l'uomo che è il centro della faccenda gli oggetti sono una conseguenza ecco questo ci tengo a dire che a noi interessa l'uomo la donna gli animali le forme di vita dopodiché facciamo gli oggetti per loro però è quasi come se disegnassimo queste persone questi personaggi il tema della sostenibilità è un grandissimo tema è molto vecchio io quando sento questa parola mi viene anche un po' no perché perché appena poi non è tanto bella sostenibile prova a immaginare una vita sostenibile io voglio una vita bella la voglio sostenibile la voglio bella per cui io la cancellerei dalla faccia di questa terra perché 25 anni 30 parliamo di sostenibilità per cui non dobbiamo avere troppi sensi di conto io credo che vada in segliata nelle scuole eccetera ma in una scuola di progetto noi dobbiamo pensare al futuro noi dobbiamo pensare come vogliamo il nostro mondo e io sono sicuro che le tecnologie e l'innovazione risolveranno queste faccende perché molto spesso quando parliamo di materiali sostenibili poi ci hanno dei problemi ancora più grossi di quelli che non sono sostenibili cioè c'è una grande confusione per cui è un tema interessantissimo ma secondo me ecco bisogna avere una fiducia incredibile nel futuro ma guarda questi prodotti meravigliosi questo l'ha disegnato Stefano quel frigorifero bellissimo ecco per cui il tema della sostenibilità va risolto con le tecnologie no non si volna mai indietro il futuro crea più di quello che si distrugge no e così anche per il mondo della plastica la plastica ci ha dato dei bene incredibili certo oggi ci sta portando anche molto male ma noi grazie alla plastica un sacco di gente non è più morta abbiamo avuto una sanità più più no però ecco broken nature fa vedere solo le disgrazie la plastica no io ecco quando si parla di sostenibilità bisogna vedere quello che abbiamo danneggiato e fatto di male però ecco non dobbiamo lavorare con i sensi di colpa dobbiamo lavorare con le tecnologie con l'innovazione con una fiducia del futuro che lo risolveremo ogni grande innovazione purtroppo qualcuno l'ha pagata sempre anche quando abbiamo inventato l'obricoltura 7000 anni no è stata un'innovazione pari a quella di internet probabilmente no ma io so che hanno trovato schede qualcuno l'ha pagata cara no questa grande innovazione questo per esempio per la dovericoltura ma poi il primo modo di parlarne è un bellissimo tema da dibattere è sempre presente in tutti i watch assolutamente però abbiamo parola e anche questa domanda è molto interessante anche dovrebbe avere la sua propria presentazione e professor Danegani Stefano se potete dirci una tendenza del design che vedremo ancora quest'anno del 2019 tendenza vedremo ancora quest'anno se siamo anti tendenze anche quella è una brutta parola perché non siamo così non diciamo oggi ma il rosso ma il tondo le questioni sono molto più importanti la tendenza ma chi se è come dire va beh sì è come dire come ti senti cos'è per te il benessere cos'è star bene nella vita noi facciamo questo noi creiamo uomini creiamo il benessere degli uomini poi che ci vale il rosso il verde il tondo il quadrato il dolbiano il baussiano ce ne freghiamo l'oggetto non è niente in confronto all'uomo no quando parliamo di oggetti parliamo di di come sta l'uomo di come li usa e poi più che altro la tendenza una volta dov'è di che è già successo esatto l'innovazione è sempre hai dubbio cioè l'innovazione vuol dire che che in un momento hai dubbio non sei mai sicuro che è giusto o sbagliato l'innovazione è quella noi non è che non siamo in grado di giudicare che è giusto o sbagliato noi facciamo una risposta e poi la tendenza è già storia è storia del design per noi ecco perché la tendenza semmai la facciamo noi la faremo noi no per cui ci interessa la tendenza come ci interessa la storia del design perché allora quello che è successo i famosi trend no sono già successi noi li vogliamo fare i nuovi no per cui siamo interessati nella misura in cui siamo interessati alla storia perché dobbiamo conoscere il passato per fare il nuovo i trend sono passati le tendenze sono passate no questo è è veramente importante secondo me non siamo una scuola di sociologia la sociologia è fondamentale ma la sociologia fa il trend no perché perché analizzano il presente e a differenza di un di me che non sono un sociologo non riesco a mettere assieme tutti i fenomeni per cui i sociologi riescono a fare queste tendenze che sembrano fantastiche perché dicono oh ecco così funziona il mondo no quel piccolo mondo ma è passato è passato noi facciamo il futuro ecco e perché è lì che noi vivremo questo era uno slogan scritto non mi ricordo più su una grande su una facoltà di Harvard se mi interessa qualcosa mi interessa il futuro perché è lì che vivono no le tendenze i trend il passato mi interessa perché forse o perché voglio assomigliare un po' a delle cose belle del passato e lì nasce la tradizione la decido io non resiste di per sé no il passato può portarmi avanti lo decidiamo noi e noi di sabbia decidiamo anche questo ed è una grande responsabilità ottimo grazie non so non volevo offendere nessuno no ma perfetto no vuol dire che con delle risposte così brevi sembra quasi appunto diminuire l'argomento ma invece assolutamente no no assolutamente abbiamo un'ultima domanda uno dei nostri partecipanti ha chiesto se potete elencare le materie tecniche del biennio sì probabilmente nel primo semestre ad esempio viene viene ripercorso tutto il sistema del disegno con i programmi dimensionali per cui molti so che li sanno già molto bene li sanno già però si parla nel semestre c'è anche una materia che insegna a disegnare in termini abbastanza evoluti non mi ricordo più che programma se è rhino rhino o solidworks solidworks poi c'è tecnologia adesso nel nuovo anno cambieranno i nomi delle materie perché c'è stato una revisione materiale però insomma sono quelle la tecnologia è fondamentale sia dei vecchi materiali tradizionali ma sai legno è un materiale tradizionale ma con legno oggi ti fanno tanto per dire le giocchezze il multistrato il chipboard proprio i luoghi laminati combinando dei legni esotici insomma sono delle tecnologie passe anche sui nuovi sui vecchi materiali che sembrano tradizionalissimi poi ci sono le plastiche che vi è un mondo infitto da tutte le tecniche di stampaggio iniezione iniezione supportata da gas fino a arrivare tutte le nuove tecnologie del rapid prototyping che non si chiama più così ma da rapid manufacturing ormai lo chiamano in passato siamo andati anche a Düsseldorf a vedere questa grande fiera Eurobold che è una delle fiere più interessanti al mondo per cui ci sono delle materie tecniche intervallate a delle materie di progetto dove anche delle materie di progetto poi bisogna approfondire delle questioni tecniche c'è design dell'interazione anche lì si lavora con Arduino con un po' di programmazione eccetera poi ci sono le materie sempre abbastanza tecniche che sono design management dove lì si toccano un po' tutte le diverse le diverse prata di mercati di promozione di promozione del prodotto dai classici canali mercati tradizionali fino a kickstarter la libera imprenditoria eccetera ok ok non ci sono più domande chiederei ai nostri relatori di chiudere vi ringrazio se volete dire qualcos'altro consigli 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 guardatevi Ciro è un po' difficile capire quale università quale vienio scegliere mi rendo conto insomma perché poi ci sono tanti modi di dire il Politecnico è più tecnico la Nava è più artistica il come lo solito dei nomi insomma dei nomi di scuole così a casa non fidatevi del tutto Nava è vero Nava ha una grande tradizione artistica io questo lo considero un grande pregio perché l'arte voi sapete uno dei momenti migliori della cultura italiana è sicuramente stato il rinascimento e lì cosa è successo l'arte e la tecnica si sono sposati è stato un momento particolarissimo con Lorenzo il Magnifico dove lui credeva in tutte e due queste cose ecco io penso che il nostro bienio è un po' questo cerca di coniugare queste due discipline fondamentali e secondo me in questo preciso momento la cultura del progetto deve mettere assieme queste due queste due discipline l'arte e la scienza bella la domanda che materie tecniche ci sono è vero è fondamentale la tecnica ma io più che tecnica la chiamerei scienza no? perché la scienza è questa più dulcia della tecnologia una visione molto più allargata della tecnica che molto spesso tende a chiudere le nostre discipline a forzionalizzarsi su su un bullone no? sapere tutto di una piccola cosa la scienza è come dire è un po' più filosofica un po' più come dire ne sa anche di tecnica ma non considerano la tecnica com'è no? ecco noi lavoriamo molto spesso per delle aziende che hanno dentro dei tecnici monstruosi sanno tutto no? sanno tutto ma sono imprigionati dalla tecnica sono in prigione perché la tecnica è una cosa meravigliosa ma se la conosci troppo non ti può rimuovere no? l'arte invece ti fa volare per cui tutto bisogna trovare un bel mix un bel mix di questi due di questi due atteggiamenti deve essere scritto ma tutti scizofrenici scientifici ma allo stesso tempo volare no? riuscire a essere anche applicare la situazione che è il tipo di un atteggiamento artistico proprio per immaginare il futuro perché dobbiamo immaginarci qualcosa che non c'è progettare è dal latino significa pro tectum no? buttare qualcosa in avanti no? ecco bene prova a buttare lo sasso in avanti puoi fare dei disastri come puoi prendere no? la ruta giusta puoi provocare per cui è sempre molto rischioso perché la nostra professione è abbastanza rischiosa non è no? all'acqua di romose creatività e basta no? è tecnica è astrazione è scienza è osservare tutto e conoscere dobbiamo conoscere tutto più conosciamo meglio meglio assolutamente bene osservazione osservazione questa è la parola quindi ringrazio i nostri relatori professor Donegas grazie a voi tutti grazie mille Bruno e Stefano e ringrazio i nostri partecipanti per essere collegati esservi collegati con noi e vi ricordo che riceverete una mail con tutta l'informazione per contattare Naba direttamente e buona serata e ci vediamo al prossimo webinar ciao grazie mille a te e a tutti i nostri ci hanno seguito grazie ciao ciao